Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io oggi volevo fare un video sulle squadre, sulle competizioni europee ma dico solo due cose per quanto riguarda, vabbè, la Roma e il Napoli io comunque dicevo già sabato scorso che sia Roma sia Napoli se fosse stato sia romanista sia napoletano mi sarei preoccupato per quanto riguardava le difese in questi due giorni gli europei hanno confermato quello che dicevo comunque trascendo questo sia Roma sia Inter sia Napoli hanno dimostrato che comunque in questo momento le difese sono un po' traballanti la Juve ha rischiato molto solo a Lione, per il resto non concede tanto quando dico che la tattica è una squadra solida a parte dalla difesa puoi fare il gioco più spettacolare che vuoi ma come ha detto Allegri io preferisco essere stampato sull'albo d'oro, nell'albo d'oro rispetto a giocare bene, penso che sia giusto anche pensarla così penso che alla fine scontino i trofei e non il giocare bene perché ricordatevi che ad esempio Barzagli e gente come Barzagli dopo l'eliminazione contro la Germania rigori agli europei si è messo a piangere e ha detto che nessuno si ricorderà di questa nazionale perché sapevano che potevano arrivare fino in fondo dopo che sono andati i rigori contro la Germania sapevano che hanno giocato con il cuore, con Grinta anche bene in certi tratti della partita però nessuno si ricorderà di quell'Italia perché non ha vinto l'europeo chiusa parentesi allora l'impresa di Lione vinta in 10 contro 11 che sembrava a un certo punto quasi impossibile non deve però trascurare certe cose io come sapete non parlo quasi mai di arbitri non cerco complotti e tutte queste cagate qua non cerco complotti appunto però ci sono delle cose che fanno parecchio storcere il naso perché da quando la Juventus è tornata in Europa da campione d'Italia ovviamente intendo la Juventus ha avuto una miriade di torti arbitrali allucinanti allora come si dice pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca perché allora un conto sono 3, 4, 5 episodi arbitrali durante il campionato può anche essere 2, 3 in Champions League per carità nessuno lo mette in dubbio Lione-Juventus sarà la partita più importante di martedì sera io non so come si fa a mettere un arbitro del genere che non è azicata una non aveva neanche fischiato un fallo netto che addirittura gliel'ha chiamato l'assistente insomma due pesi due misure ma trascando questo lo juventino non dimentica e questo messaggio è per il signor Collina lo juventino non dimentica come ci ha fatto perdere lo scudetto nel 2000 l'ultima giornata lo juventino non dimentica che si è andato a casa di Galliani se facevi tutto papa e ciccia con la dirigenza del Milan però è stato tutto nel dimenticatoio lo juventino non dimentica tante cose che ha fatto il signor Collina nei danni della Juventus quando arbitrava e ancora di più da disegnatore arbitrale lo juventino non dimentica ad esempio Istanbul quando giocavamo prima in un campo innevato e poi in un campo di patate danneggiato danneggiato volutamente solo dalla parte dove insomma attaccava la Juventus vabbè lo juventino non dimentica tutti gli episodi arbitrali già dal primo anno di Conte in Champions League contro Bayer Monaco quando perdemmo 2-0 2-0 meritando di perdere però là il primo gol mi sembra era viziato a fuorigioco tralasciando la finale di Berlino sull'1-1 rigore netto su Pogba non fischiato 6 episodi 6 episodi contro Juventus contro Bayer Monaco gli episodi di Lione lo juventino non dimentica questo io voglio semplicemente chiarezza perché non possiamo noi già che abbiamo una sfiga tremenda in questa Champions League già che ci mettiamo da soli i bastoni tra le ruote ogni tanto quando siamo nettamente forti sulla carta e ci complichiamo la vita da soli io voglio chiarezza la Juventus vi sta in culo o ti sta in culo signor Collina perché la storia parla per te tu sei sempre stato un anti-juventino acclamato conclamato come stracazzo volete dire il signor Collina deve spiegazioni perché noi non possiamo giocare contro gli avversari contro noi che siamo molte volte coglioni da soli e contro anche gli arbitri perché sinceramente io veramente ripeto non è per parlare di complotti ma sono dati di fatto se voi vedete favori e sfavori arbitrali in Champions League soprattutto da quando disegnatore arbitrale e Collina vedrete che siamo 10 a 1 10 a 1 sfavori arbitrali contro di noi l'unico episodio a favore che abbiamo avuto è il rigore fischiato a Monaco o contro Monaco in casa adesso non mi ricordo che era fuori aria ma contro lo stesso Monaco all'andata il Monaco doveva finire la partita in 10 già dal primo tempo quindi io voglio semplicemente chiarezza questo video non dovevo fare lo volevo parlare delle squadre italiane in Europa però vedo siccome vedo che molti dimenticano o addirittura giornali come la Gazzetta dello Sport danno 6,5 all'arbitro di Lione molti giornali qui in Italia non hanno sottolineato gli orrori arbitrali di Lione contro la Juventus addirittura i giornali francesi hanno dato 4 all'arbitro perché ha danneggiato la Juventus e l'hanno scritto con titoloni nonostante gli errori arbitrali contro la Juventus la Juventus fa un'impresa e vince in 10 contro 11 contro il Lione grazie a un grande buffone ma addirittura i giornali francesi quelli italiani veramente sono ridicoli come è ridicolo Collina come sono ridicole tutte le istituzioni calcistiche qui in Italia che ci marciano sempre contro e chi parla e chi dice che noi siamo un po' peccisa con la FGC io vorrei dirvi che c'è una causa aperta con la FGC ad esempio la Juventus e la FGC non si sono mai amate perché se si amavano la FGC non ci buttava in Serie B tanto per dire Collina sì chiaro la Juventus mi sta in culo quindi cercherò in tutti i modi finché sarò io disegnatore arbitrale di non fargli vincere sempre così almeno ci mettiamo l'anima in pace e sappiamo che dobbiamo combattere contro ripeto i coglioni che ogni tanto ci complichiamo la vita noi contro gli avversari e contro anche le disegnazioni tue io non volevo fare questo video ma ho aspettato tanto dato che vedo che qua la gente noi juventina soprattutto dimentica in fretta e alla fine gli orrori arbitrali sono passati sotto banco perché la Juventus ha fatto un'impresa veramente un'impresa in 10 contro 11 però quando mi dicono che la Juventus in Italia vince perché grazie agli arbitri e tutte queste cose come ha detto Giuliani? no no ma e no però certe cose ogni tanto bisogna sottolineare a ricordarle perché poi quando tu vai nella tua casettina ti spiegano che tu in Italia vinci e hai magari dei favori anche quando non è vero che invece in Europa casualmente perdi invece io casualmente in Europa ho l'arbitro contro e sai cosa succede? vinco